Silvia Piras, come sta? Buonasera, bene lei? Bene, eccoci qua, benvenuta qui anzitutto nel nostro posto delle parole per raccontare, ma non troppo, il suo romanzo intitolato Red Silienza. Silvia Piras, classe 1985, come si diceva un tempo, a che classe appartieni? Sì, 1985, una responsabile amministrativa, lei è nata da Rona, sul lago Maggiore, lei si definisce lacustre, bella questa definizione Silvia Piras. Esatto, del lago, anche se ho origini sarde, comunque sono nata e cresciuta sul lago Maggiore. Ora, lei ha origini sarde, il cognome ovviamente lo dice, donna lacustre, però ci sta parlando da una città che non è di fronte al mare, è il mare che è di fronte a questa città. Esattamente, Genova. Genova. Dopo aver viaggiato molto, Silvia Piras, per lavoro e piacere in tutto il mondo, ha deciso di trasferirsi a Genova, dove vive da cinque anni. Ama, badate bene, i fari e i rooftop. Ora, tutti quanti sappiamo cosa sono i fari, ma probabilmente qualcuno non sa che cosa sono i rooftop. Ce lo racconta? Sono delle terrazze alte, dove si ha una vista ampia, dal faro si può vedere tantissimo, soprattutto al mare ovviamente, e invece i rooftop sono proprio ad altezza magari grattacielo, anche terrazze su alti palazzi sul lago, dove si può avere l'alta visuale del lago. Ma è più alto un rooftop o un faro? Dipende, se è un rooftop di un grattacielo americano sicuramente è più alto quel rooftop, però ci sono... Ma perché questo amore, questo doppio amore, Silvia Piras? È proprio il fatto della vista, i fari mi hanno sempre affascinato in realtà, ogni volta che vado anche solo in vacanza da qualche parte cerco sempre il faro e poi colleziono la statuetta che tengo nella libreria. E quante statuette ha? Abbastanza, abbastanza. E ho visto anche magari fari di cui nessuno sa, però se io vado in vacanza in quel posto mi chiedo, ci sarà un faro? Questa cosa, vabbè, Genova ha un faro storico ovviamente, la lanterna, e quindi è un faro bellissimo che per fortuna vedo tutti i giorni. Però mi hanno sempre affascinato. Non vivevo neanche qua quando era nata la mia passione per i fari, quindi è proprio una cosa che mi lega al mondo del mare quando ci si affidava solo la luce del faro, no? Per attraccare, per non sbagliare. È un simbolo di una città di mare molto importante. A proposito di luce, e questa volta non è la luce che arriva dai fari, in copertina del romanzo Relsilienza pubblicato dalle trami di Circe ci sono tante, tante, direi tantissime luci. Che cosa ci dice questa immagine, Silvia Piras? La copertina è un'idea della mia editrice, di Simonetta Caminiti, che mentre lo leggeva mi ha immaginata a New York, completamente scarnificata e nuda. Leggeva delle pagine e disegnava quello che le veniva in mente. Mi ha vista pronta alla vita, ad affrontarla, e i capelli davanti a queste luci compongono una sorta di spirale, di rosa, che non si scompiglia col vento e vede una Sara, che in realtà è il nome della protagonista, che non ha paura di niente, neanche della sua sensualità, è pronta, tra virgolette, per una rinascita. Lei poco fa, Silvia Piras, ha detto che la sua editrice, mentre leggeva il suo romanzo, l'ha vista pronta alla vita. In che modo lei è pronta alla vita? Pronta a non avere più paura dei miei demoni. Li ho affrontati. E quindi sono, quando sono tornata dal mio viaggio lungo a New York, molto lungo direi, ero pronta ad affrontare tutto e ad essere una nuova me. Era l'unica scelta possibile, dovevo solo trovare il modo e l'ho fatto. Lei questo libro lo apre con una dedica a tutte le Sara della nostra vita, perché la protagonista di questo romanzo, romanzo che si sviluppa per circa 400 e 60 qualche pagina, vede Sara come protagonista, ma lei allarga lo sguardo, Silvia Piras, a tutte le Sara della nostra vita. Qual è il filo rosso che accomuna tutte queste Sara? Ho sempre pensato che tutte noi potremmo essere Sara. Qualsiasi persona che sta affrontando un momento di difficoltà e in quel momento si sente solo o sola e non trova una via d'uscita, quindi cede alla disperazione, può succedere, non è per niente sbagliato, anzi tutt'altro. Può essere qualsiasi tipo di dolore, non quello che ho vissuto io, ognuno ha delle sfumature infinite. E ho pensato che forse qualcuno leggendolo potrebbe sentirsi meno solo e dire è successo anche a questa persona, quindi succede a tanti, quindi può dare una scossa come può farci sentire meno solo in momenti in cui la solitudine è terrificante. Eh sì, perché c'è una solitudine che è data da tante situazioni, la solitudine dell'essere soli fisicamente può succedere, dell'essere soli perché si è abbandonati, ma dell'essere soli anche perché magari un'amica ha tradito. E a un certo punto del libro si dice che chi tradisce è un traditore o una traditrice per tutta la vita. Perché? Lì affronto un argomento, una tematica che era successa e quel tradimento, visto dal mio punto di vista ovviamente, perché poi ci sono i punti di vista sono molteplici, chi tradisce in un certo senso ci priva della fiducia che provavamo, dubito che tornare indietro in alcune situazioni sia possibile, ma questo è sempre il mio punto di vista. Ecco perché vedo come un traditore o una traditrice lo è per tutta la vita. Ritengo che quel passo falso in quel contesto si possa rifare. Noi qui nel posto delle parole dei romanzi li raccontiamo fino a un certo punto, come diciamo noi, come amiamo dire, delle storie, stiamo sulla soglia, stiamo sulla soglia anche di questa storia, Red Silienza. Però vi possiamo dire come comincia e come finisce questo libro. Dunque, vi svegliamo tutto. Così comincia. Sara decise. Così finisce. Steve. Quale sarà la decisione di Sara? Che leggiamo all'inizio di questo capitolo, il primo, proprio la prima cosa che leggiamo. Sara decise. Molla tutto, va via, aveva riflettuto, poi va a comprare, aveva già comprato i biglietti e qui comincia, per così dire, l'avventura, fino ad arrivare all'ultima parola che è un nome Steve. Però, Silvia Piras, vorrei entrare dentro il titolo di questo romanzo. Una delle parole, poi io conto nulla, non è che sono né un critico né un recensore, ma sono un lettore anche abbastanza distratto e confuso, però al di là dell'essere lettore del suo romanzo, vorrei parlare di una parola. Una delle parole che io meno amo ultimamente è resilienza. Perché tutti quanti, tutti, ormai la sentiamo, spesse volte la sentiamo anche a sproposito. Però il titolo di questo romanzo non contiene solamente la parola resilienza, perché c'è una D, redsilienza. Anzitutto, Silvia Piras, per chi non avesse mai sentito questa parola, che cosa ci dice? Ci dice che l'ha fatta, chi ha deciso il titolo, ha deciso di rendere una parola che è stata consumata, giustamente, come ha detto, negli ultimi anni, usata forse troppo e l'abbiamo scritta apposta anche nella quarta di copertina. Però il titolo ha cognato, tra virgolette, diciamo, una nuova parola che in realtà sarebbe la resilienza di Red, che in questo caso è il soprannome della protagonista e anche il mio nella vita. E anche il suo nella vita, perché questo romanzo è un romanzo di finzione ed è un romanzo di realtà. Tutti e due vanno a braccetto. Non sappiamo quale sia la finzione, quale sia realtà, ma poi, in sostanza, che cosa ce ne importa, no? Di quello che è una struttura narrativa, di quello che è stato nella vita reale dell'autrice. L'importante è entrare dentro la storia, conoscere Sarad, conoscere Red e vivere con lei questa resilienza alla vita. Certo che se Sara non avesse avuto resilienza alla vita, non avrebbe nemmeno avuto la possibilità, come diceva poco fa, lei non avrebbe nemmeno avuto la possibilità di essere pronta per la vita, perché chi ha resilienza è pronto alla vita, qualunque cosa succeda, qualunque. È così anche per Sara. Ha detto esattamente, veramente non molto convinto, lo sa. No, no, l'ho detto come se mi mancasse la voce in realtà, esattamente. E perché le manca la voce? È perché ripenso anche al cammino che Sara ha fatto quando aveva solo 23 anni e poi penso a quello che è diventata oggi e sono estremamente fiera di lei. Quello che è diventato Sara lo scopriranno i nostri ascoltatori, ovviamente non lo andremo a scoprire adesso per rispetto di chi ascolta e dovrà scoprirlo, compiendo quello che noi diciamo, compiendo un gesto rivoluzionario, che sarebbe questo. Prendere in mano un libro, in questo caso Red Silienza di Silvia Piras, con la pubblicazione delle trame di Circe, abbassare lo sguardo e cominciare a leggere. E cominciare a leggere e cominciare anche a immedesimarsi nella vita di questa giovane donna. E partiamo, a questo punto partiamo, perché questo è un libro che ci fa viaggiare anche in senso geografico. Acquistiamo anche noi i biglietti e andiamo a New York. Perché Sara ha scelto New York? La scelta perché l'ha sempre vista come una città che le dava delle vibrazioni positive, la vedeva immensa dove poteva essere una nuova Sara di cui nessuno sapeva. Una città con tante persone sapeva che nessuna di quelle persone l'avrebbe mai rivista al mattino seguente, poteva reinventarsi e quindi la scelta ha presa andata e ha iniziato da lì, da capo. Eh sì, ha iniziato da capo, perché prima di iniziare da capo ci possono essere delle cesure, ci possono essere dei dolori, ci possono essere delle perdite, ci possono essere anche dei lutti nella vita. Allora anche la parola morte va affrontata, perché la parola morte, che ci piaccia o no, fa parte della vita ed è proprio della morte, forse a volte che bisogna trarre la forza per chi non c'è più e per chi resta dover andare avanti. E questo dovere, la nostra protagonista Red lo sente in maniera molto forte e ha un modo tutto suo, vero Silvia Piras, di andare avanti e come? Ha, sente come ha detto lei, questo dovere di dover vivere non solo la sua ma anche la vita di qualcun altro e lo fa scrivendosi dei punti chiave che le serviranno a superare ovviamente delle prove importanti, semplicemente con un pezzo di carta. e sa che deve spuntare ogni punto drammatico che non è mai riuscita magari ad affrontare da sola e che sa che non riuscirà a affrontare da sola, giorno per giorno trova il coraggio e lo fa. Trova il coraggio e lo fa in questa lista numero 31, per esempio, vivere una vita senza Diego. è una lista che è come tante altre liste, non potremmo dire, ma qui è una lista che se noi entriamo nello sguardo di Sara, entriamo nello sguardo di Red, è molto complessa questa lista, perché ad esempio c'è al numero due accettare di non poter più fare l'amore con Diego. e questo è un momento terribile quando arriviamo nelle prime pagine a leggere questa cosa e uno potrebbe dire sì, però il lutto va elaborato, ma il lutto ha bisogno di tempo. E di quanto tempo ha bisogno Sara? Sara non ha una misura del tempo. Purtroppo nessuno può darle queste risposte che magari lei cerca in vano, ma è solo lei stessa. Il punto numero due è un punto molto difficoltoso. L'elaborazione del lutto, a volte di questo tipo di lutto ovviamente, può comportare anche questo blocco fisico, vogliamo chiamarlo così, e anche mentale nel aver amato qualcuno e pensare poi che non potrà più appunto fare l'amore con Diego e dovrà trovare un modo lei stessa per cercare di superarlo. E ovviamente non posso sbilanciarlo. Eh no, e ci fermiamo qua. Però lei poco fa in apertura di conversazione, Silvia Piras, ha parlato di demoni. E qui i demoni sono molto presenti, soprattutto quando Sara, Red, soprattutto quando lei è sola. Perché questi demoni le girano intorno. E che cosa vogliono fare questi demoni? Sporcarle l'anima. Lei ha detto una cosa su cui lasciamo poi riflettere i nostri ascoltatori. Sporcarle l'anima. Perché l'anima di Silvia, l'anima di Sara, voglio dire, l'anima di Sara è un'anima pura, per quanto si possa essere puri a questo mondo. O quantomeno era un'anima che cercava forse la purezza. E aver acquistato quei biglietti e andare oltre l'oceano forse era proprio per ristabilire quel rapporto con una purezza di cui Sara aveva bisogno. Che cosa ne pensa di questo? Penso che in quei momenti il senso di colpa oppure qualsiasi tipo di sentimento che ci possa avvolgere, tormentare, ci fa pensare di non essere puri o degni e quindi ci rivolgiamo tutte le colpe che magari non abbiamo, no? La nostra mente elabora cose che probabilmente non sono reali, non riusciamo a, e forse sì, andarsene e mollare la vita che aveva e andare dall'altra parte a ritrovare se stessa era proprio per rendersi conto che la sua non era un'anima sporca. Ma probabilmente sì, noi non siamo tutti anime pure, pochi lo sono, ma in quel momento e in un determinato istante qualsiasi persona si può sentire in quel modo perché elaborare non è facile e veniamo investiti da demoni, li chiamo sempre così, ognuno ai propri, che tentano appunto di rendere scuri ogni attimo, ogni attimo che passiamo da soli con noi stessi. Loren, come se fossimo avvolti dalle tenebre. Non vorrei che i nostri ascoltatori pensassero che questa storia sia una storia solo di tenebre. Sì, è una storia difficile, scorrono anche lacrime copiose a rigare le guance di Sara, e come no. Però è una storia che è una storia positiva, è una storia positiva ma per arrivare all'essere positivi bisogna farne di strada, almeno in queste 468 pagine. Lei ha detto all'inizio di questa conversazione a Silvia Piras che ci sta parlando dalla città di mare, da Genova. Quanto conta per lei il suono del mare? Tantissimo. E quanto conta per Sara? Molto. Molto. È uno di quei rumori che non fa avvicinare i demoni alla mia casa. Ti tiene fuori come dissennatori chiusi fuori. Non possono entrare il rumore più forte. È un rumore che ha calmato la mia anima, perché sono statica da più di cinque anni ormai, cinque anni e mezzo. Che cosa vuol dire sono statica da più di cinque anni? Varamente sono stata così statica in un posto. Invece qua, come se non potessero arrivare, come se quel rumore li tenesse lontano. È fondamentale non solo il rumore, ma anche il profumo che ha in qualsiasi stagione, non solo d'estate. Secondo me è troppo facile amare il mare d'estate. Invece qua i mesi più difficili sono magari dicembre, gennaio e febbraio, quando il maestrale picchia fortissimo. Fa freddo eppure il mare ha un profumo che quasi nessuno può sentire, a meno che non abiti in una città di mare. Ci si perde, anche se ci si riempie di salsedine, perché il vento è troppo forte. Però è qualcosa che calma, placa. Un qualcosa che calma, placa. Ed è questo che la nostra protagonista, Red, va cercando. Va cercando in questa storia che possiamo condensare in queste parole, come ho detto poco fa, Sara decise, Steve. Red Silienza è il romanzo che abbiamo raccontato, ma non troppo. Il romanzo pubblicato tra i trami di Circe, il romanzo scritto da Silvia Piras. Però, dopo che il romanzo è finito, in fondo alla pagina, in basso a destra, c'è scritto Continua. A quando il prossimo libro? Questa è una domanda a cui non ho una risposta. Sicuramente ci vorrà un po' di tempo. Il tempo, insomma, che si dà a un editore per elaborare il testo e ci vuole, insomma, al suo tempo. Un libro grezzo, come lei ben sa, meglio di me, viene scritto e poi ha il suo tempo di editing. Diciamo che mi sono ripromessa un annetto e mezzo. Prima di salutarci, Silvia Piras, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? È Ultima uscita per Brooklyn di Hubert Selvy Jr. Per rimanere in tema. Per rimanere in tema, ma per rimanere soprattutto a New York. Sì, sì, sì. Quanto contano i luoghi nel suo romanzo? Moltissimo. Molto. Un luogo ci può dire tantissimo e non è neanche in grado di parlare. È ciò che suscita. È quando sviluppiamo tutti i cinque sensi. Quando smettiamo di parlare e usiamo tutto il resto. Tutti i sensi, quindi, vuol dire che le parole a volte non bastano. Ci vuole qualcos'altro, perché le parole a volte possono essere incomplete. Possono. Intanto grazie davvero, Silvia Piras, della conversazione che ci ha regalato. Grazie a lei. A presto. Grazie a tutti.